ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a sfrucugliare oggi è il rado anatom rado anatom un orologio che è uscito nel dicembre scorso pochi mesi diciamo è arrivato nei negozi oggi quindi gli ho messo le mani solamente adesso ed è uno di quelli che mi è piaciuto maggiormente della linea rado perché rado noi siamo abituati a conoscerla per le creazioni particolari per i materiali che utilizza la ceramica in tutte le sue varie forme colori e le fogge particolari anche un po futuriste no da sempre da sempre rado ha queste radici poi chiaramente a noi ci piacciono gli orologi anche un pochino più normali come il golden horse che era uno dei miei preferiti è uno dei miei preferiti o il captain cook che è una riedizione del loro diver degli anni 60 certo sono belli orologi ma la vera rado è quella della ceramica e delle forme particolari è inutile da dire anche se questo orologio non è che poi mostra quelle forme così eccezionali nel senso che un orologio quadrangolare che altro non è pensate un po che la riedizione del modello del 1983 rado lo presentò nel 1983 il diastar anatom in quell'anno era il quarzo quindi ora dopo vent'anni lo hanno riproposto e la sfida era quella di riproporre un anatom con il calibro meccanico perché perché è anche nell'83 e aveva il vetro ricurvo su due posizioni su due su due lati e quindi con un calibro al quarto era molto più semplice realizzarlo la sottigliezza del calibro al quarzo è conosciuta no invece il calibro meccanico che occupa un pochino più di spazio all'interno della cassa ecco la sfida era quella ricreare l'anatom però con un calibro automatico e la sfida è riuscita perché l'hanno presentato e adesso è qui sul canale l'ho preso perché il buon giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici me l'ha messo a disposizione la gioielleria è parte l'ufficiale del canale quindi è concessionaria del marchio e offre un trattamento di favore a voi che state guardando basta esplicitare il codice canale e qualcosina vi tolgono diciamo la verità diciamola tutta ora mi occorre anche ricordare il watch meeting il quinto raduno del canale che si terrà domenica 12 maggio alle ore 15 a via legge sempre presso la gioielleria pasquale domenici nella zona altistante la zona pedonale ci incontriamo tra tutti i nuovi appassionati per scambiare due chiacchiere sugli orologi per provare gli orologi all'interno e per conoscere anche dei personaggi che saranno presenti come umberto pellizzari testimonial oris poi ci saranno alcune case orologiere che presenteranno con il banchetto con del personale apposito e poi ci sarà anche un regalo per tutti un cadeau cadeau per tutti quelli che parteciperanno venite dai ci vediamo lì domenica 12 maggio alle ore 15 mi raccomando ora vi mostro l'orologio del giorno che è questo simpatico rolex explorer da 39 mm è uno dei miei rolex preferiti semplice spartano sovrio austero e orologio da tutti i giorni orologio che dà soddisfazione al polso perché proprio quando lo metti ti senti soddisfatto ti senti in pace con te stesso e allora vuol dire che dà soddisfazione hai capito è questo il punto adesso giriamo la camera diamo un'occhiatella al rado anatom e poi ci vediamo qui come al solito per le considerazioni finali iniziamo come di consueto procedendo con i risultati delle misurazioni effettuate e in questo caso si viaggia veloci larghezza cassa 32.5 mm spessore 11.7 non esiste interasse ansa e non esiste lag to lag o meglio quest'ultimo potrebbe anche essere misurato rimane però il dubbio da quale punto partire con la misurazione e considerata la conformazione dell'orologio trovo alquanto superfluo il soffermarmi su quel dato sì perché si tratta di uno stile particolare che definirei a fascia un design quasi omogeneo che non mette in mostra un inizio ed una fine ben definiti della testa a parer mio si tratta di un orologio indossabile da chiunque in quanto va ad avvolgere il polso in maniera uniforme senza confini nettamente delineati ci sono poi gli altri due parametri che giocano a favore una larghezza contenuta ed uno spessore veramente esiguo 11.7 mm sarebbero pochi per qualsiasi orologio ma in questo caso risultano ancora più sorprendenti in quanto vengono rilevati al centro nel punto più alto sì perché si tratta di una cassa curva che tende ad avvolgere il polso e che risulta quindi anatomica da qui il nome anatom diamo sguardo nel dettaglio perché ne vale la pena innanzitutto si tratta di una cassa in ceramica opaca materiale ultra resistente ai grafici per la realizzazione necessita di determinate competenze specie se di forma curva come in questo caso inoltre il costo di realizzazione è superiore agli altri materiali in quanto gli scarti di lavorazione del processo produttivo sono decisamente maggiori chiaramente in casa rado sanno come muoversi e il risultato è quello che vediamo una cassa non solamente curvilinea ma che presenta anche delle smussature tondeggianti lungo il lato carur le cose semplici non sono di casa qui ma se poi vogliamo strabuzzare gli occhi basta osservare il vetro zaffero e come è stato montato è curvo con conseguente difficoltà produttiva segue la forma della cassa e si incastona alla perfezione senza l'ausilio di una lunetta o di un apparente sistema di fissaggio appoggiato incastrato incastonato lascio a voi la definizione più corretta va da sé che la pulizia stilistica ne esce vincente e il profilo filante ne è la palese dimostrazione volendo poi approfondire l'architettura generale dell'orologio possiamo osservare che vi è una seconda struttura portante che va ad inserirsi sotto la scocca in ceramica fissata con quattro viti periferiche questa è realizzata in acciaio inox nero pvd ed ha il ruolo di contenere la sedia del calibro lo si evince dalle ulteriori quattro viti poste più verso il centro a sigillare il tutto c'è poi un fondello in zaffero inserito ad alta pressione come si vede si tratta di una struttura complessa una soluzione modulare decisamente insolita considerato tutto ciò vetro compreso l'impermeabilità dichiarata di 50 metri risulta quasi elevata non credo si possa fare di meglio ma già che siamo nei pressi del fondello diamo lo sguardo al calibro denominato r7 66 è la versione moderna dell'eta 28 92 con le tipiche modifiche apportate al fine di migliorare le prestazioni spirale libera in ivacron e 72 euro di riserva di carica su tutte alla vista appare anche ben curato e le finiture sono in linea con il prestigio del marchio mi ha colpito lo spessore della massa oscillante alquanto sottile sembra quasi bidimensionale probabilmente una scelta volta a contenere lo spessore generale ma torniamo al quadrante ottima la scelta di non seguire il profilo del vetro intendo dire che non è curvo e quindi appare più distante al centro e meno all'estremità questo gli permette di essere altamente leggibile come si vede il contrasto tra elementi principali e fondo quadrante alquanto elevato tanto più che essendo a finitura degradé si scurisce lungo i bordi attenzione che anche il vetro presenta una cornice nera questa va a fondersi visivamente con il bordo quadrante creando continuità con cassa e bracciale stringendo il campo possiamo poi osservare che la finitura del quadrante è metallizzata a sottilissime linee orizzontali non sono facilmente distinguibili ad occhio nudo ma il particolare effetto che ne risulta è invece perfettamente percepibile un dial equilibrato con gli indici speculari e con il datario a 2.6 una simmetria che è sempre piacevole ma che ritengo maggiormente necessaria in un orologio quadrangolare non può mancare l'ancora a 2.12 il logo della casa vi ricordo che ruota con il movimento del polso in quanto è posizionata su di un rubino un orologio che risulta essere elegante senza rinunciare alla sportività elemento che emerge poi anche in assenza di luce come si vede sia gli indici che le sfere restituiscono luminescenza consentendo con efficacia la lettura al buio non rimane che disquisire a riguardo del centurino è la prima cosa che si può notare è un ulteriore componente aggiuntivo sì perché tra cassa e spezzone compare un segmento in acciaio inox che svolge un duplice compito assicura il centurino la cassa e spezza la monocromia generale stilisticamente parlando infatti va a riprendere la trama orizzontale che caratterizza sia il quadrante che il centurino quest'ultimo è di ottima qualità e realizzato in morbido caociu viene prodotto in svizzera particolarità che la casa tiene particolarmente a sottolineare vorrei infine soffermarmi sulla chiusura deployant singola una scelta sempre bene accetta in quanto conferisce maggior pregio rispetto alla fibbia e ardiglione è presente un sistema di allungamento a scatto non è una regolazione fine ma semplicemente una funzionalità che permette di sfilarlo agevolmente dal polso possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali ho un orologio che mi è piaciuto mi è piaciuto recensirlo e secondo me ha il suo perché gli orologi di forma ultimamente lo sapete che mi stanno abbastanza sfruculiando il santos il gegelecutre il reverso sono orologi di forma oppure anche andando sull'economico anche l'herbalen il cap camarade quadrato mi piacciono gli orologi di forma e questo qua mette in mostra una sagoma rettangolare o quadrangolare sarebbe meglio dire con delle capacità innovative che non sono da tutti i giorni avete visto la modularità della cassa con la parte superiore in ceramica opaca che è un mast di rado l'orologio in ceramica e con la parte interna in acciaio inox pvd nero un incastro di elementi che poi portano chiaramente l'impermeabilità ad essere di 50 metri che non sono pochi è per come è costruito questo orologio anzi tanto di cappello soprattutto non esiste la lunetta cioè il vetro è incollato proprio sopra la ceramica no proprio per mantenere la silhouette la pulizia delle linee una scelta stilistica che comporta anche delle degli azzardi tecnologici diciamo così poi il calibro il calibro è interessante perché fa parte della famiglia a 31 che è la stessa che utilizza longin degli eta in in questo caso però è rivisitato leggerissimamente con con il rotore ad esempio che è sottile come fosse una sottiletta veramente di solito i rotori sono la massa oscillante abbastanza spessa ingombrante no in questo caso non ho fatto una massa oscillante così sottile che io raramente ho visto non è che sia un plus di quelli no però lo segnalo perché non l'avevo mai visto e poi è regolato su cinque posizioni non è certificato cosco non è certificato bla non è certificato la però è regolato su cinque posizioni che ti dà già una certa garanzia di precisione di marcia no detto che il calibro è una cosa positiva il cinturino poi non si può togliere ecco io quello che ho constatato con le mie capacità limitate quali sono no da appassionato semplice comune da uomo comune di strada non è un cinturino che si può togliere con lo spernatore come si fa di solito non si può togliere sicuramente con un attrezzo specifico magari da orologiaio perché si può smontare però non l'hanno costruito per il file dati e quindi non è non è previsto sostituire il cinturino no perché io ho la prima cosa che ho pensato sarebbe stato simpatico se ci fossero stati i cinturini dello stesso colore del quadrante no perché esiste la versione ruggine scura come questo poi quella verde quella blu poi c'è quella nera che è una visione limitata a 40 esemplari che c'è la ceramica lucida e gli indici c'è diamanti quindi anche costoso 40 pezzi al mondo diciamo marrone verde blu ecco con il cinturino in tinta con il quadrante riuscire a meccarlo nel modo giusto no sarebbe stato anche un orologio più estivo però poi dopo se fosse stato così avrei detto no è meglio nero perché più sobrio capito cioè sono sempre pronto lì a rimangiarmi tutto nero va bene così però non si può non si può sostituire il cinturino è fatevene una ragione poi per il resto la maggior parte sono punti positivi la leggibilità è eccezionale si legge perfettamente si legge anche al buio orologio di forma cosa dirvi di più che la clasp ha quel trucchetto che poi è necessario perché viene in automatico quando indossi l'orologio ti si allunga automaticamente questo si allunga automaticamente lo indossi e poi si richiude da solo proprio non devi fare nessuno sforzo stare a pensare è fatto apposta per indossarlo e poi per chiuderlo che fasci bene il pulso orologio promosso è un orologio promosso che ci fa conoscere la vera rado io fatico a portare certi rado sul canale perché sono di forme veramente particolari lo stesso di astral che ha avuto molto successo quello ovale no io fatico su quella forma lì per adesso poi magari un giorno invece su queste forme qua così un pochino più da essere umano mi piacciono cioè è un orologio che potrebbe fare tranquillamente parte della mia collezione promosso dai lo promuoviamo ragazzi mi sembra di aver detto tutto io credo di aver esplicitato al massimo le caratteristiche tecniche le peculiarità e l'aspetto estetico di questo bellissimo segnatempo simpatico se non è bellissimo è simpatico almeno quello datemelo e vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video l'orologio il presentatore gli occhiali del presentatore che anche se non ci sono sono sempre lì dietro l'angolo e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love